Allora, ritorniamo insieme ai nostri ospiti, abbiamo Gianluca Dallaglio, neopresidente del confrattigianato Imprese Padova e professor Federico Della Puppa di Smartland. Allora, comincierei con lei, anche se il progetto non so se parte da Smartland oppure da confrattigianato oppure insieme, una sinergia. Guardi, è una cosa che ci è venuta in mente perché abbiamo avuto, come dire, lo spunto da un articolo dove la Commissione Europea ci invitava a mettere mano alle strutture, come dire, industriali e come recupero di energia, come produzione di energia e come dire, ci diceva, piuttosto di fare tanti progetti, prendete questa strada che potrebbe essere più interessante, cioè riqualificare i campannoni. Evitando l'utilizzo del gas, l'energia tradizionale. Esattamente. Naturalmente poi ci siamo appoggiati al professor Della Puppa che ha dei dati molto precisi che dopo ci può dire. Adesso poi vediamo, sì. Perché l'idea nostra, la provocazione che vogliamo lanciare, in poche parole, è questa qui. C'è la necessità di un qualcosa di strutturale che cofinanzi o finanzi in gran parte finanziato dallo Stato o dal PNRR famoso, che ci sia un bel progetto fatto come dire, come si deve e che naturalmente rispetti tutte quante le normative per piazzare su tutti i capannoni industriali e non, per produrre l'energia da queste strutture, compresi quelli che non sono utilizzati, che sono dismessi. Cioè metterci i pannelli... Ecco, cioè, sì, così, diciamo così, anche senza voler banalizzare troppo. Tutti questi tetti sono spazio inutile in questo momento, che potrebbe essere utilissimo per produrre l'energia che ci serve per liberarci dalle dipendenze che abbiamo con i fornitori di energia stranieri. Tanto basta fare una panoramica dall'alto, solo della zona industriale di Padova. Questo, Guardi, il professore gliela può spiegare molto bene, che ha tutti i metri quadri e tutte le cose che possiamo fare. No, la provocazione che dico io è questa qui, che dai dati che abbiamo visto, noi potremmo con i capannoni farci l'equivalente di una centrale nucleare. E con la differenza che non avremo nessun rischio di catastrofe naturale, non avremo nessun rischio di contaminazioni e anche se dovesse malauguratamente cadere il tetto di un capannone, ci saranno tutti gli altri capannoni che restano in piedi. Non è che resteremo senza energia e anche con problematiche di inquinamento. Questo ha letto che questo è partito da una richiesta dell'Europa. L'Europa ci ha invitati. Quando c'è l'invito dell'Europa cosa vuol dire? Non è una direttiva. Se lo chiede l'Europa. L'Europa ha fatto caso, quello che ho capito io, che avevamo messo mano a tutti gli edifici civili, diciamo così, nel senso delle abitazioni private, ma non a a livello di questi casi. Perché non si è parlato, perché lei è presidente di un territorio, per tutto rispetto, come azienda, eccetera, però questa è una questione che immagino sia nazionale. Penso di sì, infatti siamo rimasti molto stupiti nel leggere questo articolo, che nessuno aveva dato risalto, io non so se è una questione... Non credo che sia provinciale. No, no, credo proprio no, basta guardarsi in giro, non è che sia stata recuperata. Però, guardi, dopo io lascio volentieri la parola dalla Puppa, perché ci spiegherà le potenzialità che ci sono solo in provincia di Padova, perché poi in altre province non so, ma ripeto, invece di fare una centrale nucleare basterebbe mettere questi pannelli, questi prodotti, calcolando che se accoppiamo questa iniziativa, assieme a quella che è anche esistente, che si chiama Industria 4.0, dove praticamente si possono acquistare impianti che migliorano la produzione, la produttività e consentono risparmi di conseguenza energetici, perché meglio produciamo, meno consumiamo in kilowatt di corrente, anche perché mettendo impianti più moderni saranno sicuramente più performanti. Potremmo veramente unire due cose, due cose di altissimo livello, produrci l'enetricità e addirittura fornirla anche alle comunità comunali. Quindi venderla a sua volta? Venderla, oppure non so che altri scambi si possano fare, ma anche condividendo, voglio dire, il tetto, se io ho bisogno del 40% del tetto per il mio autoconsumo, il 60% può essere per un'altra attività o per un quartiere di casa o per scaldare l'acqua comunitaria, non so come si dice. E quello che, ripeto, è strano che non si sia preso in mano questa situazione qui per risolvere quell'altra situazione che conosciamo tutti, perché noi abbiamo avuto rincari del 120% sull'energia elettrica, cifre iperboliche sul gas. Siamo un po' preoccupati per il prossimo autunno, per il prossimo inverno, cosa succederà? Ma poi le produzioni delle aziende, tra l'altro, a prescindere dall'autunno, inverno, eccetera, potrebbe esserci la pausa estiva, se c'è una situazione di... Che riguarda il riscaldamento, mentre l'energia, l'energia, non c'è nulla da fare. Ecco, queste sono cose che purtroppo l'imprenditore medio, ripeto, ritorno su quel 95% delle imprese che sono al di sotto dei 5 dipendenti, però hanno tutti un capannone o un'attività, però non tutti hanno la capacità finanziaria, economico-finanziaria per installare degli impianti, per avere l'autoproduzione. Di conseguenza serve un aiuto forte, che non può essere solo un prestito anche agevolato, deve essere un qualcosa che, per dire lo Stato, partecipa a queste iniziative, perché altrimenti, secondo me, non possono essere lasciate al privato fatti l'autoconsumo, quanto te ne fai. In questo momento non c'è una disciplina come intervenire. Sì, chiaro. No, dopo entriamo un po' nel merito specifico di questo aspetto qui, perché ha già innescato alcuni meccanismi, giustamente, che sono le obiezioni degli imprenditori, quindi lei già ne ha parlato. Allora, cerchiamo di spiegare ai nostri spettatori cosa si tratta. Innanzitutto, panoramiche di questa situazione. Voi fate spesso le panoramiche delle realtà che sono sconcertanti. Ma diciamo che è sempre bello fotografare una cosa, anche se poi, diciamo, la fotografia è sempre qualcosa di statico, è sempre bello vedere i film, cioè vedere cose. Allora, in questo caso noi partiamo da un punto di partenza e ci immaginiamo un film futuro, che quindi è una sorta di sogno, quello della capacità di autoprodursi l'energia in modo pulito. Ci sono dei dati dai quali partire, che sono dei dati molto eclatanti, sia per la provincia di Padova, anche per le altre province del Veneto. Padova sono 897 aree industriali in tutta la provincia. Aree industriali? Aree artigianali industriali, sono 897 e queste occupano 6.800 ettari. E' una cosa inverosimile. Si capisce le dimensioni. Allora, 6.800 ettari rappresentano circa il poco meno del 18% di tutte le aree urbanizzate della provincia, quindi mettendo dentro le case tutto ciò che è stato, diciamo, il suolo consumato. Certo. Quindi è, diciamo, il 18% è quasi un quinto del totale, ecco. Quindi è tanto, è tanto, come si dice, tra virgolette, tanta roba, ecco. Però su queste aree sono edificati dei capannoni. Mediamente, diciamo, il tasso di copertura di capannoni sulle aree è di circa il 50%, per cui complessivamente si può stimare che 3.400 ettari sono ettari di tetti. E 3.400 ettari di tetti sono 34 milioni di metri quadrati, sui quali noi potremmo mettere dei bei pannelli fotovoltaici. Alcuni ce li hanno già, però non sono moltissimi, perché gli impianti complessivamente su più di 10 kilowatt sono poco meno, intorno ai 3.000 impianti. In tutta la provincia di Padova ci sono 29.000 impianti fotovoltaici, ma sono impianti di piccola dimensione, sono impianti da 3-4 kilowatt, quelli delle famiglie, che si sono messe sulle villette. Impianti grossi sono pochi. Eppure noi dovremmo andare verso una produzione diffusa di energia, come diceva il Presidente prima, garantisca la produzione, l'autoconsumo e anche se un capannone dovesse crollare oppure non dovesse funzionare un pezzo di un impianto, in realtà tutto il resto funziona. Messa a sistema è una realtà. Messa a sistema sarebbe una grande realtà. È chiaro che stiamo parlando per provocazione e per ipotesi quasi assurda, cioè che fosse tutto fatto, ma se tutti i tetti dei capannoni industriali artigianali della provincia di Padova avessero pannelli fotovoltaici, ci sarebbe una capacità produttiva di 4,4 gigawatt. Cioè stiamo parlando di cifre che garantirebbero complessivamente l'autoconsumo senza dover acquistare l'energia da altri soggetti. Oggi, infatti, secondo i dati di Terna, diciamo che la provincia di Padova ha una capacità produttiva energetica di poco più di 1.300 gigawattora, ma ne consuma 5.900 gigawattora. Qui ci sono 3.800 che bisogna comprarli da qualche parte. Allora li compro da qualche altro fornitore, magari li compro dall'estero, magari da chi in questo momento ha scatenato una guerra e forse varrebbe la pena non acquistare questo tipo di energia, magari producendo in loco. Cioè quello che sempre stanno a sollecitare. Ecco, da questo punto di vista un primo passo nell'analisi che abbiamo fatto potrebbe essere quello di utilizzare tutte le superfici dei capannoni abbandonati e inutilizzati, perché su, diciamo, provincia ci sono circa 16.000 capannoni nella provincia di Padova, 1.890 risultano abbandonati e inutilizzati. Ancora? Sì. Allora, siccome sono vecchi capannoni, non sono più adeguati anche alle nuove produzioni, eccetera, sono anche invendibili in qualche modo, infatti li vediamo abbandonati, eccetera. Allora, una strada potrebbe essere quella di dire mettiamo intanto a sistema questo tipo, cioè recuperiamo questo patrimonio edificato che in questo momento è inutilizzato, ci mettiamo sopra i pannelli fotovoltaici e già solo recuperando quella cosa lì si potrebbe produrre quasi il 20% dell'energia necessaria al settore industriale della provincia di Padova, solo recuperando quelli. Ma, diciamo che, al di là delle provocazioni, il tema è che oggi abbiamo delle tecnologie e delle possibilità che ci permetterebbero di fare questo a dei costi che sono anche tutto sommato molto bassi. Eh, perché fa il problema dei costi è quello che appena il freno, ce ne accennava lei Presidente che dopo dice... Un capannone mediamente in provincia di Padova, cioè la media del pollo di Trilussa, però comunque, diciamo, ha circa 2000 metri quadrati di tetto, no? Poi ci sono quelli più piccoli, quelli più grandi, eccetera, però la media è quella. È chiaro che per un imprenditore significherebbe investire 300 mila euro sul proprio tetto, sono tanti soldi, però è anche vero che poi si risparmia sulla bolletta energetica e ogni imprenditore sa quanto paga ogni mese di energia, eccetera. Nel tempo si avrebbe una produzione che oltre alla parte di autoconsumo potrebbe essere venduta sul mercato libero e questa cosa si sposa, ed è l'altro elemento interessante, con la nuova politica avviata dall'Unione Europea sulle comunità energetiche. Cioè l'idea che l'energia non deve più essere prodotta solo dai grandi produttori nelle grandi centrali, ma possa essere prodotta diffusamente sul territorio da piccoli produttori che autoconsumano e quello che è in eccesso vendono o immettono gratuitamente sul mercato. Questo passaggio è un passaggio fondamentale perché nelle grandi città si sta ragionando, ad esempio, sulle comunità energetiche di condominio, grandi condomini che iniziano a prodursi la propria energia. Le aree industriali sono i primi condomini, in qualche modo, anche se non si paga se non c'è la gestione unitaria dell'area industriale. Noi non siamo nell'Emilia Romagna, nella Toscana, dove ci sono le cosette APEA, che sono delle aree produttive ecologicamente attrezzate, con un gestore unico che gestisce tutti i servizi per i vari imprese insediate. Qui ognuno fa un po' il proprio, ma da Veneti in questo senso lo spoglierebbe, però siccome c'è convenienza a fare questo, forse varrebbe la pena iniziare a pensarci. Poi è chiaro, ai 1800 capannoni o ai 16.000 ci si arriverà, da qui speriamo al 2050, perché abbiamo un certo tempo nel quale provare a fare questa politica, che si sposa perfettamente, e questo è l'altro punto interessante, perché non serve occupare dei campi agricoli per mettere il fotovoltaico. Che è una questione che è stata già... Non consumiamo suolo, è suolo già consumato, mettiamo i pannelli fotovoltaici sui tetti. Ecco, le chiedo questo però, dopo più tecnicamente interverrà il Presidente, la continuità energetica, i classici cali, l'azienda ha bisogno per la produzione di un certo tipo di kilowattore, di potenza energetica, di continuità, già quando abbiamo gli sbalzi energetici, mandano in tilt o addirittura fanno saltare interi sistemi. Potrebbe essere ugualmente garantita, oppure necessitano di impianti che sono veramente molto, molto importanti, molto costosi per poter soddisfare queste esigenze energetiche. Perché finché prendiamo il pannello fotovoltaico, lo mettiamo sopra la casa, che poi sopperisce con l'energia elettrica, va o non va, perché poi abbiamo visto anche vari problemi, tutto sommato è relativo. Quando parliamo di aree industriali o aree artigianali di un certo tipo e aziende che ci stanno sotto, al di là di quelle che non ci sono, è una questione che magari l'imprenditore si pone. Lei faccia un po' la domanda tecnica, poi sentiamo il Presidente cosa dice come imprenditore. Da questo punto di vista è chiaro che torniamo al tema tecnologico e torniamo al tema della raccolta distribuita dell'energia, della raccolta e poi della redistribuzione energetica. È chiaro che non stiamo parlando dell'autoconsumo del singolo soggetto, dell'isola deserta, eccetera. Stiamo parlando di sistemi articolati dove ci servono imprese adeguate che sappiano poi costruire questi sistemi e capire che oggi, come un tempo, nelle nostre case, nel momento in cui uno si fa il pannello e si fa un impianto da 3 kilowatt, poi attiva la centralina per lo scambio sul posto, qua non sarà una centralina, sarà la centralona, chiamiamola così, però il punto è che non abbiamo problemi tecnologici da questo punto di vista. Quindi anche un accumulatore energetico, per esempio, ci potrebbe essere di questa portata? Sì, da questo punto di vista sì, poi molto spesso è una questione di spazi, no? Perché anche chi vuole farsi l'accumulo in casa ha necessità di avere una soffitta vuota per mettere tutti gli accumulatori. Ma il punto è che al di là degli aspetti tecnologici, no? C'è una necessità di spingere su una cultura della produzione energetica sostenibile, perché è una produzione che fa sì che immettiamo meno CO2 nell'aria, no? Dicevamo prima col Presidente. Peraltro attiviamo anche competenze di alto livello, perché comunque oggi non è difficile installare palnelli fotovoltaici, ma in queste condizioni bisogna avere una determinata qualità, eccetera. Se installo dei pannelli di quel tipo ho bisogno che durino 20-30 anni, quindi devo fare la manutenzione, eccetera. È un'economia che si mette in moto, no? Su una capacità energetica che è quella che poi serve per alimentare tutti, comprese le batterie dei nostri telefonini, cioè da questo punto di vista. Senza dubbio. Siamo un po' giù di termine, però l'aspetto cruciale è quello che lei aveva accennato prima che poi torna, cioè da un lato lei come imprenditore, che settore si occupa? Sono un'officina meccanica di lavorazioni di precisione. Perfetto, è quello che vuole. Sarebbe convinto, quindi anche se con un po' magari di scetticismo, immagini di un suo collega con un'azienda analoghe, perché sono quelle le tipologie più interessanti o più diffuse, a fare una cosa del genere. E poi lei prima accennava i soldi, anche quelli finanziamenti. Prendeva un progetto da parte dello Stato che finanzia, anche in questo caso per stimolare una cultura che da noi non nasce spontanea, perché lo sappiamo, da noi la cultura nasce se c'hai il vantaggio, se è un popolo un po' particolare. Guardi, a me sembra di aver capito che questa qui è una strategia europea per liberarsi dalle forniture, per esempio di gas, che vengono dalla Russia, ma anche che vengono dal Medio Oriente, perché fino a pochi anni fa avevamo il problema del Medio Oriente, dunque è un problema che va risolto. Mi sembra di aver capito che l'Unione Europea ha detto che dobbiamo risolvere questo problema. È chiaro che deve essere la politica che entra in gioco. Quindi è necessario l'intervento. Cioè non è che autonomamente voi potete dire lo facciamo, siamo tutti d'accordo. No, perché se io lo faccio e sono tranquillo e beato, ho la mia corrente, ho i soldi per farlo, però se tutto attorno a me non c'è nessuno che riesce a farlo, non mi sembra che sia una soluzione pure... Quindi è necessario l'intervento istituzionale politico. È quello che dicevo prima, magari l'imprenditore può partecipare naturalmente, già voglio dire ci metterebbe la sua proprietà come capannone, lo può mettere a disposizione. Qui bisogna capire se l'energia è una strategia nazionale o meglio europea, oppure se viene lasciata al singolo o alla singola comunità energetica, oppure al... si diceva prima il condominio auto... però non mi sembra... deve essere un qualcosa che viaggia, che viaggia ben strutturato, con economie di scala, perché immaginiamoci che tutta una zona industriale venga coperta da questo... vuol dire che ci sono grandi e grandi mezzi che mettono i pannelli, non più uno alla volta, con due persone che se lo passano, ma ci sarà un'automazione. Immaginiamoci l'accelerazione che ci sarebbe a livello tecnologico e produttivo, perché l'ideale sarebbe che anche i pannelli ce li producessimo... E infatti so, per esempio, a materie prime... Perché se poi dipendiamo dalla costruzione dei pannelli da qualcun altro, insomma, è come cadere dalla padella alla braccia. Dunque, è tutto un sistema che potrebbe veramente fare qualcosa di nuovo, un'economia nuova e che forse ne abbiamo proprio bisogno, perché come accennava lei prima, il lavoro è sempre lo stesso, gira e rigira, insomma, siamo sempre lì. E invece si potrebbe veramente avere finalmente un modo anche di, non solo di autoprodursi energia, ma di autoprodursi quello che serve per produrre l'energia. Certo. Professore, un'ultima cosa. Non è che si nel circolo, abbiamo sempre parlato che con lei di famoso circolo dell'efficientamento energetico quasi cade in un altro buco, nel senso che appunto bisogna produrre questi pannelli in quantità anche importanti e non può essere il pannelletto così, ma quindi con importanti materie prime che sappiamo che comunque hanno anche uno smaltimento dopo un po' di tempo significativo e costoso. E poi non è che si altererebbe in qualche modo anche una situazione climatica, anche se locale, ma comunque può avvenire anche questo. E quindi si crea un disequilibrio ambientale. Ma da questo punto di vista direi che se ci fossero dei disequilibri sarebbero comunque positivi, cioè sarebbe un riportare l'equilibrio da qualche altra parte perché significherebbe produrre meno energia con le fonti fossili. E diventa più importante che no. E quindi questa è una delle priorità che dobbiamo avere. Produrremo l'energia con il sole, quindi con veramente una fonte iper rinnovabile. L'altro aspetto invece, quello legato alle materie prime da utilizzare per la produzione di pannelli, eccetera, è chiaro che lì, e per lo smaltimento, è chiaro che lì ci potrebbero essere dei problemi. Però è anche vero che la tecnologia in questi anni ha molto migliorato, non solo le prestazioni, adesso siamo arrivati a produrre il fotovoltaico con dei film sottilissimi, un tempo i pannelli erano più spessi, eccetera. E in più, siccome c'è una ricerca molto forte in questo campo, anche dal punto di vista dello smaltimento, si è scoperto, ad esempio, che ciò che si pensava di dover avviare in discarico, in qualche modo, recuperare, eccetera. Oggi può essere invece riutilizzato, rivitalizzandolo e rinnovandolo. E questo secondo me è proprio, da un lato abbiamo l'innovazione tecnologica che ci aiuta, dobbiamo metterci assieme delle scelte e delle politiche adeguate, abbiamo gli strumenti, diciamo, basta giocare, ecco diciamo... Basta sapersi muovere, infatti. Benissimo, siamo giunti al termine. Presidente, questa è stata una provocazione, una ricerca, un test, o volete andarci giù pesante? No, no, noi vogliamo restare su questo argomento, perché, ripeto, siamo molto preoccupati, noi così non è che possiamo continuare a pagare l'energia il prezzo attuale, cioè o si ritorna a... No, anche perché si prospettano un altro anno sicuramente che prezzi altissimi. No, perché veramente stiamo erodendo gli utili delle aziende, perché è molto difficile far ricadere sul mercato aumenti del prezzo del genere, perché finché ci sono aumenti di qualche punto percentuale, è un discorso, ma il 100% o il 120% sono cifre che non riusciamo neanche bene a capire, cosa voglia dire. Adesso stiamo vedendo che l'inflazione sta creando dei scompensi che vedremo nei prossimi mesi, secondo me cosa succederà, il potere di acquisto non si sa più che fine ha fatto, uno dei motivi, secondo me, anche che c'è continuamente la ricerca di nuovi posti di lavoro, è perché se una famiglia si trova che invece della bolletta da 100 euro, se la trova da 200 euro, il suo budget familiare comincia a vacillare, ognuno va a cercare quello che può trovare di meglio, sono equilibri molto sottili, sono veramente situazioni di cristallo, diciamo così, che basta niente per farle crollare. Ci auguriamo che qualcuno raccolga comunque queste nostre idee, mettiamole anche come provocazione, che ci spieghi se non è possibile farlo, se è possibile farlo, se ci sono vie migliori da percorrere. Certo, voi l'avete lanciato, però non state fermi, insomma, quindi questa è una cosa importante parlarne. Allora, Presidente, grazie di essere stato anche con noi, di averci introdotto anche a questa tematica che è molto interessante, grazie a tutti e al professore che ci supporta in queste analisi dettagliate, queste panoramiche che facciamo sulla realtà, vi auguro buon lavoro a entrambi, naturalmente, a voi telespettatori vi lascio alla pubblicità, poi ci rivediamo insieme, grazie. Grazie a tutti.